Buongiorno, sono Stefano Secci, vengo dalla città di Asti. Sono felicissimo di essere venuto al primo convegno nazionale su DM Goldex a Napoli, che è la città di nascita anche dei miei genitori. Sono contento di far parte di un team e di un business particolare, il quale porterà sicuramente a dar sicurezza alla parte economica. Grazie a Goldex, alla prossima!